Sapevo di appartenere al pubblico e al mondo, non per il talento o la bellezza, ma perché non ero mai appartenuta a nient'altro e a nessun altro. Sono Marilyn Monroe e sono una delle più grandi dive di Hollywood. Il mio nome di battesimo è Norma Jean Mortenson Baker. Nasco il primo giugno del 1926, a Los Angeles. Non ho mai saputo chi fosse il mio vero padre, mentre mia madre, Gladys Pearl Monroe, è mentalmente instabile e non riesce a prendersi cura di me. Nel 35 ho un forte esaurimento nervoso, quindi finisco in orfanotrofio per tre anni e successivamente vengo data in affido a 12 famiglie diverse. Ma non mi sento mai veramente a casa e in una di queste subisco anche violenza sessuale. Trascorro un'infanzia travagliata, mi sento sola e la necessità di trovare un punto di riferimento mi spinge a sposarmi a soli 16 anni con il mio vicino di casa, James Daggerty. Ci mettiamo pochi anni a capire che si tratta di un errore e ci separiamo. Lavoro come operaia alla Radioplane. Mi occupo di impacchettare i paracadute e di verniciare le fusoliere degli aerei. Nel 45 vengo fotografata al lavoro per un servizio volto a tenere alto il morale delle truppe al fronte. La mia foto è un successo e mi cambia la vita. Divento un'icona di bellezza e sensualità. Tutta l'America parla di me. Eppure da piccola nessuno mi diceva che ero carina. Secondo me bisognerebbe dirlo a tutte le ragazzine, anche se non lo sono. Inizio la carriera di modella. Tingo i capelli biondo platino, imparo a sorridere davanti alla telecamera e miglioro l'addizione. La mia fama aumenta. Poso per le più importanti riviste internazionali e nel 46 firmo il mio primo contratto cinematografico. Nel 47 però il mio contratto viene rescisso. Dicono che sono scarsa nella recitazione drammatica. Tutto ciò mi ferisce. Ma non mi abbatte. Sono ambiziosa. E non accetto le briciole. Ci hanno fatto donne, non formiche. Pian piano comincio con ruoli da comparsa fino a conquistare piccole ma significative parti nei film Eva contro Eva e Monkey Business. La mia popolarità esplode nel 53 con il film Niagara seguito da Gli uomini preferiscono le bionde e Come sposare un milionario. Ormai sono per tutti Marilyn Monroe e il mio nome diverrà leggenda. Sono una donna intelligente e sensibile ma agli occhi della gente sono solo una squaldrina o una bella bionda svampita. Non sono né l'una né l'altra. Dentro di me ho dei pensieri bellissimi e soffro molto quando le persone non riescono a vedere oltre il mio involucro. Nel 54 sposo il campione di baseball Joe Di Maggio ma la nostra unione dura solo dieci mesi. Ho voglia di cambiamenti e di focalizzarmi sul lavoro quindi mi trasferisco a New York per studiare all'actor studio. Qui incontro il mio terzo marito il commediografo Arthur Miller da cui divorzio dopo cinque anni di matrimonio. Per tutta la mia vita cercherò quel grande amore in grado di colmare tutti i miei vuoti ma rimarrò costantemente delosa. Torno a Hollywood e ottengo grande successo con i film di Billy Wilder quando la moglie è in vacanza e a qualcuno piace caldo. La mia ascesa definitiva coincide con un periodo di forte depressione e crisi esistenziale in cui abuso di droghe e antidepressivi. Al compie anno di John Kennedy nel 62 intorno la canzone Happy Birthday Mr. President nella versione che tutti conoscete. Questo non fa altro che alimentare i pettegolezzi su una presunta relazione tra me e il presidente degli Stati Uniti. Il 5 agosto del 62 a soli 36 anni vengo trovata senza vita nella mia camera da letto. La causa ufficiale della morte è suicidio dovuto a un overdose di barbiturici ma ancora oggi rimangono molti punti oscuri. Il ritardo dei soccorsi la scomparsa delle fotografie dell'inchiesta e la presunta relazione tra me ed entrambi i fratelli Kennedy come muovente del delitto. Ho avuto un passato tragico sulla carta non avevo speranze eppure, grazie alle mie forze sono diventata una star. Ho vissuto tutto la gloria, l'abbandono l'apoteosi e la dannazione. Sono stata osannata e criticata ma in tutto ciò non ho mai rinunciato a essere me stessa fino all'ultimo respiro.